Prima campanella anche a Notaresco questa mattina con la riapertura dell'Istituto Comprensivo, comprendente circa mille studenti. Il saluto a docenti e bambini da parte del Sindaco Antonio Di Gianvittorio e tutta l'amministrazione comunale con la visita istituzionale dell'assessore regionale alla pubblica istruzione Pietro Guaresimale. Innanzitutto do il benvenuto questa mattina all'assessore regionale Pietro Guaresimale che è venuto a farci visita, per noi è un onore, è molto importante questa visita, abbiamo riqualificato con delle piccole migliorie l'Istituto Comprensivo, abbiamo quasi mille unità nel nostro comprensorio, c'erano delle modifiche da apportare, abbiamo apportato il pedonale e tante altre migliorie. Poi abbiamo già finanziato con l'afficentamento energetico la scuola materna, quindi ci sarà un intervento molto importante di 70.000 euro adesso o nei prossimi mesi, quindi come efficientamento energetico cambieremo i serramenti per tutta la scuola dell'infanzia. Quindi tante le novità anche all'interno della scuola. Si riparte, è un anno scolastico importante, ho iniziato il tour prima a terra, ma adesso anno da resco, ringrazio il sindaco di Gian Vittorio per l'invito, faccio un augurio a tutti gli studenti, a tutto il personale scolastico, affinché sia un anno pieno di soddisfazioni. La scuola è di fondamentale importanza perché rappresenta il trampolino di lancio per le nuove generazioni, quindi sicuramente noi istituzioni in sinergia ci dobbiamo puntare. La scuola avviene da un periodo difficile, a causa della pandemia spesso abbiamo dovuto ricorrere alla DAD. Come Regione Abruzzo stiamo facendo tante iniziative nell'ambito scolastico perché solo sensibilizzando i giovani riusciremo a combattere e prevenire alcune problematiche. Voglio ricordare il problema del bullismo, del cyberbullismo, ma anche la violenza di genere. E per di più con i centri per l'invito che stiamo andando, come abbiamo fatto scorso anno, nelle scuole per vedere quali sono le attitudini dei ragazzi per gli sbocchi lavorativi.